Oggi vado a Milano, il ponte di Vaprio, Canonica Vaprio, che divide appunto le province di Bergamo e di Milano. Il canale magliettana mi accompagnerà verso il mio obiettivo. L'Interland milanese, tracce di vita di gente che fa capire. La civiltà insomma, con le sue contraddizioni, la società, con la povertà, la ricchezza, l'emarginazione, la solitudine, l'indifferenza. E venendo lungo la ciclabile, le si incontra e più si è vicina alla città, non è anche un po' saper guardare. Questa è la fine della ciclabile, e adesso prenderò le ciclabili del mio Chiorre Gioia, che si sono ciclabili, però bisogna stare molto attenti. Appena è iniziato a me sulle Chiorre Gioia delle piste ciclabili, mi stavo tirando sotto. Ma ho un po' fame. Ecco appena fatto il pieno alla mia muscolar bike. La stella è militante. La Milano che cambia, la Milano da bere. Ecco mi trovo nella nuova Milano da bere. Milano da bere. Amori interinari e poliziotti di quartiere. E prendiamo la strada per andare a City Life. Un amico Salvatore, che ha sbloccato la sua bici che fa i 60. Per ammazzare il tempo ci siamo sconvolti. E' una bellissima giornata, poi oggi possibilità del Ferragosto. Quindi è apprezzabilissima la città. Pici rigorosamente. Le buglie del Duomo. Un amico Salvatore. 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 Un amico Salvatore.